Hai qualcosa da ridire? Eh? Cosa c'è? Qual è lo scopo della tua presenza qui? Vai! Ho sbagliato! Dov'è? Facci sapere! Facci sapere! Dimmi! Tu desideri? Che ti imbarazzi adesso? Dimmi! Ah sì, mi ricordo! Sono d'accordo, sì! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Eh? Io però adesso devo fare la live Ci vediamo tra due orete? Eh? Guarda qua, c'è il coccodrillo Prendi il coccodrillo Il coccodrillo è trasparente perché c'è il green screen Che Goditelo tutto A posto? Siamo d'accordo? Non si sa Eh? Vai! Vai a divertirti con gli amici Ma che cazzo? Ma cosa c'hai stamattina? Sei appiccicosissimo Buongiorno! Buongiorno a tutti! Scusate per questo intro Ma... Che cazzo c'hai? Ciao! Posso? Devo fare la live Ci vedo due ore Batti gli occhi Tanto prendi sonno Dai, fammi fare Per favore Eh, stamattina è così Vorrei sapere il finale Sta tornando Dico T'ho visto che sei scivolato come un coglione Cos'è? La palla? Ma ho capito Arrivo, eh Pazzo È completamente pazzo Grazie a Ferica Per i 27 mesi Dimmi un po' Ancora la palla? Dove vai? Dove vai? Questa è lontana Sei nato stupido? Tieni Tieni la pallina Vai Guarda te Corre Lui corre Allora Prima di partire Dico due robe Perché siamo organizzati Quasi all'ultimo minuto Adesso te la tieni tu la palla Oggi ci sarà la live extra Lo confermo Lo ribadisco Orario di Karim Anche se oggi Karim non fa la live Ma la farà oggi Io Karim e la Roby Dalle due alle quattro Saremo su Ghost Recon Ok? Faremo una squad Quindi giocheremo tutti assieme Voi potrete vedere Tutte le live contemporaneamente Ok? Nulla di che Alle due Mi raccomando Io mi sono dimenticato Come sempre di ricaricare le cuffie Quindi le sto tenendo in carica Fino all'ultimo momento Sif Ho capito io Che hai voglia di giocare Ma io devo giocare qui Dobbiamo scoprire Che cosa è successo All'equipaggio Dalla obra di Testi orecchie Che cazzo vuol dire Avere due orecchie Te le taglio La live doveva essere domani Ma ci hanno detto Che è meglio farla oggi Perché domani C'è anche la Games Week Che hanno paura che ci sia Spero che non arrivi Dalle 10 alle 11 Vabbè che Bartolini E già tanto si arriva Non credo arriverà al pacco Comunque A me hanno detto Dalle 10 alle 13 Non credo saranno mai Non credo saranno mai corretti Per questa cosa qui Mai Nel caso lo fossero Durante la live Di oggi pomeriggio Mi vedrete Vedrete della ficcanza Diciamo Vedrete della ficcanza Grazie a Darius Buona Cosa ho detto Iniziare la giornata con Sif Esuberante Migliora la giornata Sempre e comunque Buone leccate sul viso A lei Grazie Io naso Ah sì Mi ricordo Praticamente Pepper sì No La metterò vicino A A Edward Però non ha le mani di forbice Il mio Ha una spada E la live di oggi Esattamente come Le altre live Quella di oggi pomeriggio Vi permetterà Di ottenere Ficcanza In game Datemi un attimo Che vi vado A dire Che cosa Nello specifico Un secondo Catroia Non ho fatto Il coso Per le tasse Mi sono dimenticato Vabbè Lo faccio dopo Mi metto il promemoria Dove c'è Eccolo qua Ghost Rikons Ecco qui Ecco qui Un attimo Che vi dico Non so Non so cosa siano Patch Le chiamano patch Immagino Siano delle toppe Della scimmia Dell'ancora E del ram school Non lo so Comunque per avere la scimmia 30 minuti Dovete semplicemente Guardare la live Per 30 minuti Per avere l'ancora Dovete guardare la live 45 minuti Per avere il ram school Un'ora Adesso io non so se io Ho cose diverse Da Da Roby E Karim Non so se Roby E Karim Hanno fatto Il collegamento Con il drop Io L'ho fatto In realtà Da Cosa Da Far Cry New Dawn Quindi Si Non so se loro lo faranno Durante la squad Dovete tenere la mia finestrella aperta Se volete quella cosa lì A me Alla fine Fate quello che volete L'importante è che vi divertiate Che sia Una bella live Tanto con le squad Ci si mangia sempre Pubblico a vicenda Lo sappiamo Ormai È già una cosa rodata Però io le trovo Parecchio interessanti Per vedere più punti di vista Contemporaneamente Quindi le vorrei fare Molto più spesso Anche Perdendo pubblico Non mi interessa Mi piace Mi piace fare queste cose Quindi Partiamo Il ritorno Della obra d'In Oggi chiederò Aiuto Perché mi piacerebbe Finirlo oggi Si Diviscono moltissimo L'utenza Ma perché Twitch È stupido Anziché Prendere I numeri di tutti E metterli assieme Li divide Quindi se ci sono 2000 persone Che guardano le live 1000 da una parte 500 dall'altra 500 dall'altra Ma mettile tutte assieme Vaffanculo Che ti frega Che ti frega tanto Ah giusto Aspettate che devo anche Ridimensionare Per l'ultima volta Si spera La ridimensionamento Dello schermo Allora No ho sbagliato Tiè Amici e amici Poi ti rubano il pubblico Allora Non ci avevo fatto caso Nei giorni precedenti Eh Ma Quanto specifico Questo menu Tempo di gioco 5 ore 19 minuti Ok Ultima sessione 9 ore 22 minuti fa Ma chi se ne frega Va bene Quando è che ho giocato L'ultima volta Allora A noi interessava Un personaggio chiave Dov'era Era qui Scusatemi Cazzo non ho portato l'acqua Vabbè Se ho 7 mi alzo Questo qui Fammi Annotami tutti i ricordi E vediamo Questo stronzo Dov'era La prima volta Che l'abbiamo visto Era qui Però non credo Che qui ci possa aiutare Granché Anche qui Ma è sempre la stessa cosa L'omicidio No Qui c'hanno tutti Ti manca Da scoprire Più di metà Equipaggio Vedo d'ora A finirlo oggi Sì Gaber Però Il libro L'abbiamo finito Quindi È solo Una cosa Di connessione Era qui Qui Cos'è successo Ah ok Riprendiamo un attimino La storia Ieri abbiamo visto Il secondo ufficiale Che rapiva Dei cinesi Eccolo qua Eccolo qua Erano in mare aperto E lui Ha rapito Da quello che abbiamo visto Dei cinesi E rubato le conchiglie Questi sono spariti Non sappiamo Che fine abbia fatto Prigionieri mondi Qui li hanno ripescati indietro Gli hanno ripescati indietro E gli hanno detto Tiratelo su E ricaricatelo Cosa sta succedendo Sai di queste Di queste cose Dello scrigno E dei tuoi amici morti Quindi era sopravvissuto Un Che non è cinese È di Non mi ricordo come si chiama Comunque parlano in cinese Quindi Cinese È colpa vostra Dobbiamo proteggere la conchiglia Moriremo tutti Parla di una conchiglia Molto pericolosa Formosa Bravissimi Quale conchiglia? E qui erano presenti Presenti delle persone Allora Il gabbiere Che è quello che è morto Fulminato È lui Che ci interessa Sapere chi cazzo è lui Qui nella situazione Eccolo qui Lui è qui nel contesto Fammi tornare un attimino Qui Dov'è che dobbiamo andare? Qui Qui vicino In realtà Sono questi i cadaveri? E cazzo ce n'è due Quale sarà? Quello legato? Fammi vedere Si dovrebbe essere Questo qui Ok Non aveva Il tatuaggio Il pelatone Questo l'ha schivato Lui l'avevamo poi Identificato Si Ah no È stato decapitato Da una terribile bestia Ma lui chi è? No Lui è il macellato È il chirurgo C'è il grembiule No Il chirurgo è lui Ah c'è il grembiule Infatti E lui chi è? Deve essere il carpentiere Per me è il carpintiere Per me è il carpintiere Perché No Però Effettivamente Scusami Eh no C'ha C'ha il coso C'ha Alla valigetta Secondo me il carpentiere Ma perché il carpintiere Si avvicina ai cadaveri Con una valigetta? Beh il carpintiere Col grembiule Ci può stare Secondo me No Aspettate un attimo Abbiamo confermato Lui No No Sorti ignota Chirurgo Lui Infermiere Sorti ignota Carpentiere con la valigetta No Effettivamente no Avete ragione Quindi lui potrebbe essere Il chirurgo Strano però E allora lui è l'infermiere Di nuovo Per forza Allora ho dei dubbi Perché lui È sicuramente medico O qualcosa Quest'altro pure Che Da quello che sto vedendo In questa In questa cosa Si Proviamo a mettere Infermiere Magari lo accetta No Non lo accetta Non lo so Sì effettivamente C'ha la cosina Da chirurgo E lui E lui però è infermiere Per forza Per forza di cose Signora con cui balla Non lo sappiamo Non sappiamo nulla Di lei Sappiamo solo Che ha ucciso Un uomo Non è vestito Abbastanza bene Per essere medico Però Perdonami In questo contesto qua Vedi Questo qui forse Sono loro due Loro sono i medici Non hanno frontiere Le vedi A meno che A meno che Aspetta un attimo Il nostro amico Quello di prima Il medico vero Non sia morto Prima Ha avuto una sorta No non lo sappiamo Grazie a LazySense Non so quanto tempo Fa rinnovato Ma Twitch mi fa condividere Già dieci mesi Come passa veloce il tempo Veramente Grazie Se la donna Fosse sua moglie Potrebbe avere un senso Allora fammi vedere Se ci sono Dei cognomi comuni Allora Si chiama Evans Il chirurgo Prendiamo Evans Vediamo se c'è una donna Che ha due cognomi Ovviamente Mi piace Non ci avevo pensato A cercare questa cosa qui Non ci sono A parte il fatto Che non ci sono donne Jane Bird O Evans o Wallens Però non vedo Nessuna donna C'è Emily Jackson Non ho idea Non ho idea ragazzi Veramente non ho idea Sì La signorina La signorina E questa è la signora Grazie Crestlin Crestlin Metà anno è andato Complimenti per lo spegnolo Come non detto Come non detto Ok Grazie per il ride Che no Grazie mille Quindi questa qui Possiamo Possiamo farla così Questa diciamo che Lei è la signorina E lei è la signora La 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 Come si chiama Come si chiamava questa qui Emily Emily Jackson Ok, però nessuna delle due sappiamo com'è finita Noi sappiamo che Emily Però ha ucciso un uomo Emily ha ucciso un uomo Era lui? No Chi è che aveva ucciso Emily? Oh dolce Emily, chi cazzo hai ucciso? Fammi vedere Quando cercavano di prendere Di scappare con le sialuppe Sì, sì, nella fuga La sventura Ok, il patto La fuga Ok Questo ci potrebbe aiutare a dire Un assalitore sconosciuto con la spada Sì È stato ucciso da un colpo sparato Da Com'è che si chiamava? La 21 era, mi ricordo 21 Ed era Emily Jackson Allora lui Credo sia... Ah, perché non sappiamo il nome Lui non sappiamo chi è Lui non sappiamo chi è Questo qui era quello che poteva essere un russo Come stavamo dicendo, no? Vi ricordate? Alexei Alarcus Leonid Eh no Non sappiamo chi è Questo ufficiale ignoto è stato ucciso da un colpo sparato da un assalitore sconosciuto In realtà Di ufficiali ne sono rimasti pochi Com'era il cappello dal carpentiere? Grazie a Buzz the Buzz Ho perso il conto dei mesi Oh no Grazie Grazie Cappello Carpentiere Vediamo se il carpentiere C'è un cappello Partito Non Trovo niente Tirato Il nocchiere cos'è che era? Perché dite che il nocchiere? No Cioè, boh, non lo so O il nocchiere o il commissario di bordo, dite Ma perché? No, aspetta un attimo Non a caso Ditemi perché Perché nocchiere? E quello che ha ucciso il fratello con le cime sciolte? No, non è lui Non è lui Lui muore sparato per un'altra situazione Sì, sì Era il danese Quello lì delle cime È già andato da un po' Sì, è vestito Infatti è vestito fico lui È vestito fico Però, eh, chi è? Eh, non si sa John Davis Il quarto ufficiale Questo ci sono arrivati per l'escusazione È stato ucciso Con un bastone da un assalitore Sconosciuto Che non è sconosciuto Porca puttana È quello che stiamo cercando Ormai da Otto live Chi cazzo è questo brutto bastardo Che se troviamo lui Abbiamo finito il gioco Lui era tra i russi Eh, vedi Le due signorine Non sappiamo che fine abbiano fatto Secondo me sono È viva lei È scappata È viva Ah, figa Non si sa dove è andata Niente come non detto Giuriva Senza causa nuovo lavoro Ma si rinnova sempre Grazie Sì, sì Ma alla fine arriveremo tutti Per esclusione Per carità Ok Questo uomo è stato ucciso Dal capitano Con un coltello Tu figlio di puttana Chi cazzo sei? Era qui Era qui Brennan Porta i ferri del chirurgo Brennan L'abbiamo trovato Brennan Ha detto a Brennan Di portare i ferri del chirurgo Walllands Quello che cerco Brennan Vediamo Brennan Henry Brennan Marinaio Marinaio Quindi Noi stavamo cerchi Che fosse lui Lo stava dicendo a lui Lo stava dicendo a lui Di andare a prendere I ferri del chirurgo Magari L'ho perso adesso Ho perso tutto il segnalibro Qui dove era No Era prima Era prima della furia No eccolo qua Brennan Erano tre persone Allora c'era Quello che è stato ucciso Il primo ufficiale È Brennan No C'era anche Vrittel Ma lui sappiamo chi è E allora per forza di cose Questo qui è Brennan Scusa ma non Non ci siamo arrivati prima Eh però così Siamo comunque Intascati Grazie al telecomando Per i suoi sei mesi Grazie per non aver cambiato canale Ok Allora abbiamo trovato Ha ucciso il cinese Ha ucciso lui il cinese Perché era quello che gli sparava No che faccio Eh qui È stato ucciso Da vostro Non era l'assalitore sconosciuto Ma era Brennan Sì Grazie E almeno ci togliamo un po' di nomi Sapevo che era giusto lui Era l'assistente Però non è finita qui Brennan ha ucciso anche il cinese Fammi tornare Fammi tornare Perché era Durante l'esecuzione Era l'unico che ci aveva preso L'unico con una mira O l'unico che voleva effettivamente Far fuori l'asiatico Perché è razzista forse Non lo sappiamo Non conosciamo così bene Questo Brennan E cazzo Era prima Molto prima Ma cazzo Compare in tutte le pagine Prigionieri immondi No Sparizioni No Mare aperto No Prima No Sì No Non è vero Prima 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 Eccolo qua È stato ucciso da Brennan E noi infatti avevamo messo ufficiale Perché pensavamo Invece Eccolo qui Lui è stato ucciso da Brennan E su questo Non ci sono dubbi E Nunzio Nunzio era stato ucciso Da secondo ufficiale Per catturare quello Quest'uomo Chi è? È stato ucciso Da un colpo sparato Da un assalitore sconosciuto Allerta ragazzi Io non mi ricordo questo Non lo usate Caricate Dobbiamo salpare Lasciatemi andare Passamela Capitano Lasciate le cime E calate le scialuppe Avremo addosso Tutto Ah questo è il momento In cui si stavano levando Dai coglioni Grazie ad Ultimate Sacco Nove mesi di intrighi Avventure Misteri risolti Grazie Grazie mille a lei Qui c'era Un casino C'erano undici persone Sì E' quello lì che è stato ucciso Per sbaglio lui? No Non è quello lì Sparo Armo da fuoco No Tutta colpa di Brennan E' stato lui Ha fatto tutto lui Quest'uomo è stato ucciso Da un arpione Un nemico straniero Quest'uomo Chi cazzo è questo qua? E' uno Dell'ultimo degli stronzi Veramente Nathan Peters Ha avuto una sorte ignota Sì Non sappiamo chi è questo uomo Io c'è gente che proprio non mi ricordo di aver mai visto Chi è questo qui? Cosa vuole? Indaghiamo su di lui E alla fine arriva Brennan Era qui nel ponte di carico Mantenete la pressione Questo gabbieri ignoto Ha avuto una sorte ignota Bah Dici tu Vorrei andare a vedere Provo a guardare un po' di dettagli Un po' di oggetti Anche Però non Non sto notando nulla di distintivo Lui sappiamo chi è Quanto meno Sì sì lo so Fafu Brennan Brennan Ma soprattutto Perché qui è lucchettato E noi non possiamo accedere Vabbè sono morti da tanto tempo Io ci cammino sopra Me ne sbatto Vediamo un po' Però ragazzi In questo contesto Non c'è il chirurgo O quello che noi ritenevamo Il chirurgo Che c'è Ah no è lui Cazzo sì avete ragione Confermato Lui è il chirurgo Lui è per forza il chirurgo Decapitato da una terribile bestia In teoria è giusto E lui È l'infermiere a questo punto Perfetto E lui chi è Assistente del quarto ufficiale Chi l'ha mai visto È quello lì Che sta venendo Tagliato a fettine Leggiamo la trascrizione Un attimo Tienilo fermo Che folia è questa Vent'anni a mio servizio Ah quello Era l'altro discorso Va tutto bene John Sono sicuro che hai visto di peggio Dov'è il resto della gamba? C'è qualcuno che si chiama John Qui Allora il chirurgo Si chiama Harry No aspetta aspetta Fammi vedere Harry E l'infermiere si chiama James Non c'era nessun John Vero? Mi pareva fossimo arrivati Al punto in cui Non esisteva nessun John Invece c'è John Napoli Che viene dal Galles John Napoli John Napoli Eccolo qui Sarà lui John Napoli John Napoli il gallese Ti è E per me è morto Dissanguato Non c'è Dilaniato Da una terribile bestia Non me lo accetta C'è me lo accetta Probabilmente Ma Ce ne mancano altri Secondo voi Fila il discorso Il discorso L'altro uomo È questo Qua È Davy James Dilaniato Sì ma non da una bestia Dici? Hai ragione Vero È vero Perché Perché è stato È stato questo qui Probabilmente Dalla situazione Dov'è la gamba? È un mistero È stato lui Probabilmente Perché lo hanno accusato E lo stanno portando via di peso E lui è l'assistente del capitano Filippo Proviamo Perché ne ha tagliato la gamba poi? Secondo me è stato Filippo E scusate che staccare una gamba non mi sembra una cosa così easy È l'assistente del primo ufficiale Dov'è? 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 Qui Quanto è in basso? No Filippo Eccolo qui O l'hanno amputata Allora è possibile Forse dilaniato non è la risposta giusta Dici? Avvenenamento Fammi vedere se c'è qualche arma del delitto qui C'è una spada Sì È stato spadato Allora Gli mettiamo Strozzato Perforato Io gli direi Ucciso Spada Però mi sembra strano Mettere così Ucciso Spada Forse la gamba è sotto la scala Dove è partita la scena Qua Ma che mi frega a trovare la gamba Ma qui c'è altra gente morta No infatti non è morto per adesso Ma che birre l'avevo messo io eh Berial Vivo non si sa Perforato Non lo so Grazie Clomar Per i 24 mesi E li mettiamo sorti ignota Dilaniato potrebbe andare bene Sì Però Non Non me l'ho accettato Non c'era la sferzata della spada C'era solo ucciso da una spada Però scusate eh A questo punto abbiamo Una sorte Due sorti Tre sorti Tre sorti Quindi c'è qualcosa Di sbagliato Per forza Forse questo qui Non era Patrick E che cazzo era questo qui Il nome di Brennan nell'epilogo Quando uccide il capitano Hai ragione Me ne ero completamente dimenticato Quest'uomo Non sappiamo chi sia Eh no Eh no Sì ce l'abbiamo già messo Peccato Anche lui l'abbiamo visto spesso E' quello affogato che è sbagliato Anche secondo me Secondo me Secondo me questo qui E' persiano Sì è l'unico Della Persia Quindi Lo mettiamo Chissà che fine ha fatto Neanche l'abbiamo mai visto Nathan Peters Ha avuto una sorte ignota Che fine ha fatto Nathan Peters Il capitolo bianco Non ce lo fa vedere Lui è Lui è lui E lui sappiamo chi è lui Sì l'abbiamo già fatto Il capitano Nella trascrizione qui invece Che dicevano Aspetta un attimo Era No Era Qui era No Ok Gli dice Tienilo fermo Che follia è questa Vent'anni nel servizio E mi aiuto Di aiutare Spiegati Ah no Però non dici a chi Di portarlo via Quelle bestie e demoni Sono maledette E gettiamoli in mano Nel muscampo Legatelo e sbattetelo Nel nazaretto Con quelle cose Forse ritroverà la ragione E gli dice Stolti Lui è Ma scusa Lui non è il capitano Sì E quello lì Che cazzo è Ah no Lui è il E la mia Cazzo sono uguali Ok Questo è il primo ufficiale E lui Chi cazzo sei tu Chi cazzo sei tu Figlio di puttana Allora è sicuramente Un marinaio È sicuramente Un marinaio Questo bastardo Però chi cazzo è Credo che sia L'unico Inglese Che ci è rimasto Però non è detto Che questo qui Sia corretto E neanche questo No John Napoli Sì No Non è un gabbiere ignoto È un marinaio ignoto Scusa Sbagliato Un marinaio ignoto John è il tipo che stanno portando Eh sì No 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 Non è John Il tipo che stanno portando Lui è il danese È l'assistente del capitano Lui In vent'anni non ho mai dubitato E infatti lo portano via Alla faccia da George Perché è curioso Allora Qui c'è gente con in mano un libro Questo qui c'è in mano un libro Chi è questo qua Chi l'ha mai visto questo qua Ah lui è S Ok Chi se ne frega Già scoperto Già fottuto Questo era il cuoco A posto E lui invece Eh Lui Lui ha un ruolo importante Senz'altro Ma Capire quale sia Poi Qui Chi sei tu Non so ma c'è una posa plastica Ganzissima Signora Akbar Lui Non è No lui Lui l'abbiamo Quelli di colore Li abbiamo identificati tutti Possiamo andare per esclusione con loro India Formo Eh no Eh no Si vede che lui Viene da un'altra parte Porca puttana Vabbè però così è troppo intricato E la cosa della razza Era quella che ci ha aiutato di più Finora Sei nero potrebbe essere americano Ma c'è Ci sono americani Scusa Ah si Ah si Siete molto intelligenti Avete ragione Non può essere persiano questo Potrebbe essere il carpentiere Sapete Fammelo vedere bene Sì c'è anche la La salopette Credo eh Ci potrebbe stare E questo qui L'aiuto Carpentiere Non si sa Dite più l'aiuto Potrebbe essere Scusatemi Io pensavo che potesse anche fare L'aiuto Carpentiere Un uomo Razzisti Sì effettivamente Il nome Marcus È più corretto Per un uomo di colore Dell'epoca Diciamo che lui è il carpentiere E questo qui è l'aiuto Carpentiere E il carpentiere Questo qui Lui è morto perforato Quest'uomo Diciamo che è il carpentiere Non si risolve Non può essere indiano Uno di colore Ragazzi Cioè la vedi la differenza O almeno il gioco Te la fa intuire Non vedo indiani Ecco ma non detto Che casino Non potevano mettere Una foto a colori Si capisce niente qua Che poi si Si vede Questo qui No Invertili Proviamo Non credo Eh però proviamo Giusto per folklore Gli mettiamo Aiuto Carpentiere A lui Ma porca troia Era così Cioè Allora Lui era l'aiuto Carpentiere Bisogna vedere se l'altro Era effettivamente Il carpentiere Finalmente Questo cinese Può riposare in pace Ed è morto anche Ed è morto anche Roald Dahl Qui Ok Fammi Fammi però tornare A quella situazione lì Perché a quel punto Io direi che lui È il carpentiere Cioè Mi viene da dire che Dove cazzo è finito Se non credo Allora Questo qui Se questo qui È l'aiuto Carpentiere Io a sto punto Direi che lui Però prima L'avevamo messo Carpentiere E non ce l'ha dato Corretto Lui L'avevamo messo Ah no L'aiuto Carpentiere Era la Eh Noi però L'avevamo messo Come carpentiere Lui Ah perché Bestia Bisognava mettere Non nemico Può essere Fammi Fammelo Fammelo Indagare meglio Vediamo come è morto Questo povero Bastardo Eccolo qua Non sai fare di meglio Ah sì Perché era stato Tutto infilzeggiato E no Ma era stato Arpionato Mi ricordo Però non lo sappiamo Per adesso Non lo sappiamo Il cognome Smith Era utilizzato Per quelli di colore Smith White Brown Perforato Dite che è meglio No no Ragazzi Era proprio un arpione Mi ricordo Proviamo Dai proviamo Giusto per Vabbè che tanto Comunque non me ne dà Corrette altre Grazie a Glace Ice Per i 28 mesi No 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 Nemico Andava bene Nemico Perché è stato Dall'arpione Era quello che cavalcava Il granchio C'è altri nomi Non lo so Ci manca un assistente di bordo Ancora da nominare E gli allievi E gli allievi del primo ufficiale Che in realtà Sappiamo Come sono Ma non sappiamo Chi è chi No no Defe Ce l'aveva dato Corretto Come nemico Le sirene Erano bestie Quelli lì Che cavalcavano I mostri Gli dava Gli dava corretti Chi è l'assistente di bordo Fammi vedere un attimino Perché Effettivamente Di assistente di bordo Ce ne rimane solo uno E sarà qui nella foto Che sia lui Potrebbe essere A questo punto Questo vi sembra indiano? Oh Ma questi qui Sono gli assistenti No? Eh perché Era vestito Era vestito Come l'infermiere Io ho detto Infermiere qua Ma questi qui Sono gli allievi Anche questo qui Allievo 33 34 Ok No Non è possibile Non è possibile Allora Un allievo Ah perché Questo qui è morto È confermato Ok Questo qui è un allievo Ma anche questo qui È un allievo Perfetto È uno Uno e uno Questo qui Questi qui Sono gli allievi Il timoniere Potete Effettivamente Timoniere È attaccato al timone O è lì per hobby Fillei Dalton Che fine ha fatto? Grazie di Kishimaru Per i 17 mesi E a Biste Per la sub Grazie belli Grazie Grazie Vi ricordo che il video Dei sub È online Andatevelo a ficcare Finita la live però Prima Prima le cose serie Ok lui Lui è Gabbiere Ed è morto Buon per lui Lui chi cazzo è? Però è stato ucciso Da un arpione Da una terribile bestia Ed è asiatico Questo uomo è cinese Quindi Eh potrebbe essere chiunque No 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 ma tanto non è detto Che ce ne fossero altri Di giusti Quindi questo sicuramente È un gabbiere No no ragazzi Ma ne abbiamo due Per adesso di corretti Cioè Ne abbiamo uno Di corretto in teoria Gli altri non si sa Che poi gli ufficiali Scusami Come fanno a non finire ancora? Assistente Ok Ufficiale ignoto L'aiuto artigliere Ma così vecchio? Cazzo potrebbe essere però Eh sì Lui potrebbe essere L'aiuto artigliere Per forza Perché di fianco All'artigliere Nella situazione Va bene Lui bu C'è del polacco Vero? Secondo te Quello era il commissario Di bordo E se il commissario Di bordo Fosse lui? Secondo voi È ancora il dubbio Che sia il commissario Di bordo Vabbè Lo lasciamo Di nuovo ignoto Il giovane Accanto A quello Con il cappello Magari il figlio No Non funziona così Non credo Almeno Non dovrebbe Però di coniomi I doppi Non ne abbiamo più visti Qui l'abbiamo fatto Questo qui È un altro Gabbiere Cinese Per forza Prima analizzo Tutte le foto Poi vediamo Quest'uomo È stato Decapitato Da una terribile bestia Anche lui Potrebbe essere Zing Lee Wei Hey Non lo sappiamo Nella scena del crack Inverto Il vecchio portava le armi Potrebbe essere l'artigliere No Non è l'artigliere Perché l'artigliere È già morto Grazie a Danimal Per la sub E Il signor Lama Buon salve A lei Grazie mille Grazie a tutti L'artigliere è morto Però effettivamente Quello lì portava le armi Avete ragione Avevi ragione Questo qui portava le armi Nella situazione Io lo rimetto Aiuto artigliere E poi al massimo Si cambia C'ho questa sensazione Secondo me lui è giusto così Grazie anche a Hyper Vincent Per i tre mesi Allora andiamo un po' avanti A capire queste cose qui Basta in realtà Mi fermerei anche qui Perché non capisco più Un cazzo Chi è chi Dove si sente il capitano Però non si sa Che fine abbia fatto Ah si mi ricordo L'artigliere è colui che ha detto i cannoni sulla nave Ma le armi in generale Infatti vedi l'artigliere È quello che dà Il via Allo sparaggio I russi giocano a carte Sì I russi giocano a carte Però noi non abbiamo la minima idea Di chi sia chi Grazie a Virgox Per i due mesi Non lo sappiamo Aspetta un attimo I gabbieri sono vestiti diversi dai marinai Cioè i marinai magari non sono le strisce Ah si mi ricordo Ah mi sta impazzendo il cervello Sì uno dei russi Questo qui è nella barca con le sirene No Uno dei due Non mi ricordo Lui l'abbiamo confermato Nathan Nathan però non si sa che fine abbia fatto Ok Marinaio Lui l'abbiamo confermato Questi sono tutti i marinai Ok Mi verrebbe da dire che È George Shirley Ok Di marinai i russi ce ne sono due Esatto Quindi per esclusione l'altro è il gabbiere Certo Però finché non sappiamo chi è chi Allora mi viene da pensare Che quelli attaccati alle cime Siano i gabbieri E questi Siano I marinai Potrebbe essere secondo voi Tipo quest'uomo Vediamo un po' i gabbieri Allora Di russo ce n'è uno Tutti gli altri ne hanno 31 Lui è sorti ignoto Ok Lui è stato sparato Da un asseditore sconosciuto Boh E non andavo in mezzo al mare Ti reggi dove poi Ho capito Però Dai Speravo 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 Una roba più semplice Secondo me è così comunque Questi qui sono marinai Questi sono gabbieri Perché ci deve essere Allora Già questi due sono gabbieri E sono uno in fianco all'altro Questo magari no Perché Fa i giri Secondo me lui lo è Anche perché di gabbieri Ne abbiamo un'infinità E dobbiamo Da qualche parte Iniziare a sfoltire Torno a ricordo Dove si levano Dai coglioni Magari quello Dello sparo Lo riconosciamo Visto che è uno Di quelli Che poi Sono sulle navi Con le sirene Non ho capito Quando scappano Intendi È stato decapitato Eh è vero Harry non me lo accetta Questo gabbieri gnoto È stato decapitato Da una terribile bestia È vero E' strano perché c'è Allora abbiamo uno Due Questo qui in alto Siamo a due Ci manca un terzo E il fatto che non mi stia accettando nulla Mi dà da pensare Il capitolo non ce lo dà ragazzi E ce lo dà a fine gioco Ho già detto E' uno dei due E' uno dei due Oh scusatevi Mi è uscito del muco dal naso Che schifo Prova a invertire Infermiere e chirurgo Ma scusa il chirurgo non l'avevano già accettato No hai ragione Non me lo fa vedere ovviamente qui No non è che non accetta nessuno dei tre russi E' che non Ben inverto anche Però secondo me era giusto prima Grazie Cringy Salad Per 28 mesi Un tavolo buono che conosco in proprietà Ma certo No secondo me era giusto prima Lui Lui è l'infermiere E questo è il che Perché c'è proprio tutta la salopette Poi magari sbaglio Allora stavamo dicendo Dov'è che andiamo La famiglia reale è corretta Sì abbiamo Le abbiamo finiti Durante la fuga La fuga Va bene Dobbiamo andare Dobbiamo andare giù Dietro Anzi no Dobbiamo salire E andare dietro Adesso esco da Da questo ricordo Come faccio ad uscire Oh no Di qua Sì 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 è vero È vero Dei rematori Che ci davano Dei dubbi Lui Lui Ma la si supporta sempre Grazie mille Robo Lo sappiamo chi è E sappiamo come è morto Trascrizione Il calamaro è andato Il tuo secondo è stato fatto a pezzi Non l'abbiamo ucciso Il suo secondo Aspetta ma l'abbiamo già identificato Il suo secondo Lui è il coso Lui è il Il nostro uomo Il suo secondo è stato fatto a pezzi Scusami il secondo Lui è il suo secondo Il nocchiere è il secondo Del nostro uomo Al cento per cento Perché chiede Dov'è il mio francese Il nocchiere È stato fatto a pezzi C'è qualcuno Che qui È stato fatto a pezzi Che sembra Anche vagamente francese No Il nostro Dov'era il nostro uomo Qui Qui Su secondo Sarà questo No Perché questo qui è confermato Che sia lui È stato fatto a pezzi Il tatuato No Il tatuato L'abbiamo già confermato Il tatuato Era un Gabbiere Vedi Poi non era francese Sai che potrebbe essere lui? È possibile che ci fosse un nocchiere di colore Cioè un francese di colore All'epoca Grazie diga È stato Il commodore blu Nel salone Con il candelabro Al commodore blu Scusami Grazie Sul ponte principale Qualcuno è stato fatto a pezzi Bisogna vedere cosa intendono Per fatto a pezzi Ovviamente Più che altro Qui Non sto vedendo Altra gente Perché le abbiamo segnate Le morti le abbiamo segnate Di quelli che abbiamo trovato Le morti le abbiamo segnate tutte E bisogna capire Cosa intendono Per fatto È stato il commodore Nel ucciso 64 Bisogna Per fatto a pezzi Perché loro dicono Fatto a pezzi Ma non vuol dire niente È stato ucciso Mi fa piacere Valdo Mi fa piacere Peccato stanno finendo Le persone Se fosse stato ucciso Nel patto Come? Che sia lui? Allora andiamo a cercare Ci siamo persi Un morto qui Mi sembra strano Ma Qui sono tutti vivi Dove siamo In questo punto Della storia Sudati del mare La sventura Chissà che cosa è successo Nel patto Era la fuga Cazzo Non sappiamo Cos'è successo prima Però qui mi dice Che Nel lazzaretto Potrei trovare Delle risposte Ah lazzaretto È chiuso a chiave Questo capitolo Rimarrà segreto Finché non lascerai Finché non lascerai La nave Scusami Se posso uscire Fammi capire bene Ah e mi restituirà il libro Dite che è stato fatto Ma un capitolo Ma un capitolo intero Dalla morte di quello Sparizioni Effettivamente Questo qui è sparito È quello lì Che credo sia il francese Quello Anime perdute La sventura A me viene da pensare Che il francese Si è stato fatto fuori Durante la situazione Lì Non ce n'è altri Qui da indagare No no Quello che è Alle iniziali È morto Scorreggiando Letteralmente Non sto scherzando E l'illustratore È quello morto Scorreggiando Sì Ah no Avete ragione Sono due diversi Io nel lazzaretto Non posso andare Perché ha lucchettato Vero? Lazzaretto Sì È di sotto No Mi sa che quello È quello È lucchettato E l'illustratore Mi resumo Beh Che dire Niente Ah Scusa Vedi Eccolo qua Il lazzaretto È chiuso Cazzo Buona giornata A lei Ehi Lei Abbiamo capito Chi era Che era Eh sì Quello bruciato Assistenti Questo qui Che cazzo c'è Cazzo c'è in mano Un torcione Non ricordo Si vedeva Sulla sfonda Un tizio di colore Con un martello in mano Potrebbe essere Potrebbe essere Mi ricordo L'illustratore E l'abbiamo già Al martello in mano Ragazzi È il carpentiere Per forza Per forza È il carpentiere Non è il francese Il francese è il nocchiere Lui è il carpentiere Guardate È il martello in mano L'avevo detto Alla salopetta Tutto quanto Guarda dov'era E questo qui È il suo secondo L'aiuto carpentiere Questo è certo Qui abbiamo La certezza Che lui sia corretto Di fianco alle scale Dell'azzaretto C'è qualcosa che Ah sì Resti L'abbiamo visti Di prima Ma tu Chi cazzo sei Chi è Questo qui Sarà il nocchiere O è il commissario Di bordo Per forza Non ce ne sono rimasti più Indiano Non mi sembra proprio Mi sembra bello Chiaro Per essere indiano Sembra un nocchiere Così A occhio Effettivamente Però non è un nocchiere Però non sappiamo Comunque come è morto È stato fatto a pezzi Effettivamente Dicono Ci buttiamo E' un nocchiere Anche a me Anche a me Però Finché non abbiamo certezza Non mi va di Lui arriva Perché devi illustrare La scena Lui Così Lui Che Lui Che cazzo sei tu Sei morto? Marinaio Sì Morto Quello pure Questi inciampano Come dei coglioni Andiamo un po' in giro Per i ricordi Dai Carpentiere è bianco Il nero è il secondo Sei troppo progressista Ma come? Ma se sono stato Quello a dire subito Che Il carpentiere Era quello nero E non l'aiuto Perché non togliono in mano Questo? Non ce ne frega niente Perché tanto è morto Allora lui Era vicino A questo Questo qui E' l'assistente Del terzo ufficiale E tu che cazzo sei? L'assistente Dell'assistente? Un altro allievo Da un'altra parte? Mi sembra strano Però Assistente tipo Indiano Mi sembra indiano? Non mi sembra indiano Se forse è indiano Alla divisa da assistente È vero? Grazie a Dabbone Ed era la cazzo di ora Sono d'accordo Sono d'accordo Lui è assistente Secondo me È assistente di bordo È l'indiano Lui è l'indiano Sì Secondo me Vedi Ha la tutina Qui da assistente Come gli altri assistenti Lui assiste Ed è indiano Lo capisco più che altro Dai capelli Tutti leccati Vabbè Qui non c'è nessuno Qui non c'è nessuno Oh Nessuno che ci abbia Stata benedetta donna Tatuata sul braccio destro Eh Questi qui invece Sono gli allievi Però non sappiamo Ancora chi è chi Lui scappa Ah lui è Coso Filippo L'impazzito E dove sta correndo Il buon Filippo È vicino al quarto ufficiale Il ragazzino Dici Hai ragione Però non c'è L'assistente del quarto ufficiale Era Davy James Eccolo qua Cazzo Però lui mi sembra più indiano Di quell'altro Ma no no Lo chiama Lo chiama anche Lo chiama No Aspetta Il quarto ufficiale Non era quello lì Che aveva Rubato Effettivamente In disparte rispetto No no Era il secondo Questo qui Era il secondo Eccolo qui Questo è indiano Galligan Era indiano Perché se questo è indiano Indiano anche lui Effettivamente si somigliano No è gallese Come gallese Questo qui è gallese Ma io che cazzo ne so Gabriel Devo individuare un indiano Ma io mi chiamo Il Nintendo Qua Sì secondo me Il ragazzo Non è l'indiano Potreste aver ragione Potrebbe essere L'assistente del quarto ufficiale Senza problemi Perché qua c'è il terzo ufficiale E il suo assistente Dov'è? E il suo assistente Poi c'è il secondo ufficiale Con il coso E il terzo Il primo E il primo Ci può stare Che questa zona qui Questo qui È un po' Indisparte L'assistente sta vicino Al suo quarto ufficiale Quindi questo qui Possiamo dire Secondo me Che è questo qua Perché la tutina è quella E allora Questo qui Gli diamo dell'indiano E sono fatti i suoi Eh la nazionalità È veramente un disastro E infatti Bastardi loro Ci mettono anche Il carpentiere francese No non è Non è francese Scusate Il carpentiere Vabbè americano Ci può stare Però comunque Ti intriga di più Perché tu stai cercando Di scervellarti E quantomeno Associ i colori Alle facce E riesci a separare Un attimo Allora sono stronti Eh no Perché lui Sarà anche africano Però È andato a vivere In America Ed è nato lì Da genitore Sì ma allora È un casino Non ce la faccio Sono 62 persone Fuori i passaporti Che vediamo Chi è chi E cosa vuole Che cosa Sto capendo Più cazzo Ah Io poi Che le facce Non me le ricordo Mai I nomi Figurati Io lo gioco facile Sì Le figure Prendo la stella E la metto Nella formina A forma di stella Prendo il rosso E lo metto Insieme al rosso Giro la ruota E la mucca fa Mrrr Eh Cazzo Chi cazzo È questo Poi Chi sei Tu con la tua Maglietta Tutta slabbrata Marisa Marisa prendi nome E cognome È già stato Denunciato È già in prigione Ah Di qua Chi c'è qua Ah Un portatore Di scatole Ma lui Lo sappiamo già Chi è No Non abbiamo idea Di chi cazzo sia È uno scatolatore Ah ah Lui fa il figo Allora lui Lui è sicuramente Un gabbiere Strano Strano L'avevamo già detto Oh Io mi butto Timothy Non è Timothy Non è cinese Sicuramente Sarà Nicholas Non è Nicholas Sarà Huy Luis No Secondo me Russo Non è Però ci proviamo No appunto Non c'entra niente Nulla come non detto Tipo lui è persiano Vedi Si vede che lui è persiano Perché si è vestito a moto Da farsi riconoscere Bravo Cazzo Bravo Sto sbagliato Chi l'ha ucciso No Ma non credo Qui quando stavano recuperando Aspetta Come siamo messi nella trama Non mi ricordo Scusami Sì Ok Sgomberate il ponte Spostate le scialuppe Verso poppa E gettate i corpi fuori bordo Sì Avevano appena Recuperato tutto Lui però Lui però L'avevano trovato Chi era Lui era morto Marinaio Stai a vedere Dove è questo qui Adesso A russo Non credo Potrebbe essere Inglese George Potrebbe essere George Chissà se è curioso Glielo dobbiamo chiedere Se è cercato di aprire La scatola È sicuramente curioso Lui? Lui che cazzo è? Boh Però è apposta È morto Qui stanno organizzando I balli di gruppo Nel frattempo Ah Questi qui sono gli ufficiali Col capitano Che si mettono d'accordo Sul da farsi Ok Lui poi l'avevano sgamato No però Sono convinto Che lui sia L'aiuto artigliere Per te indiano E non persiano? Qual è la differenza? Cioè Da ignorante Non ho idea Scusa I persiani E anche gli indiani Lo portano turbante Ma però I persiani Tengono la barba lunga Gli indiani no Gli indiani non hanno la barba Dai gli indiani non tengono Sì invece sì Cerchiamo la barba Cerchiamo una foto di persiano Cerchiamo una foto di persiano Adesso mi trovo al tappeto Stai a vedere No il gatto Uomo Persiano Uomo persiano Sono bellissimo Sono bellissimi i persiani Sì Allora La quinta foto Che trovo su google immagini È palesemente Quello che Cerchiamo Indiano Uomo Ma sì Gli indiani non portano La barba E invece no Uguale Anche lì col turmante E uno con la barba Però la barba lunga Col bianco in mezzo È più persiano Come fanno poi Bravissimi A tenere il bianco E l'oscuro ai lati Ci vuole una bravura Micidiale Chissà cosa dicono al barbiere Non è assistente ufficiale Perché non ha la divisa Chi? Ho capito Da dove vengono i persiani E da dove vengono gli indiani Ragazzi Era una questione Visiva Perché Cioè non me ne frega un cazzo Da dove vengono L'importante è riconoscerli Nel gioco Per dire chi è chi Uno di religione indiana Chi porta il turmante Necessariamente non si rade la barba Ho capito Ho capito Però non ce la faccio più Guardate l'italiano L'italiano Porca miseria Suonava il violino Vedi Che Non vuol dire niente Però l'abbiamo sglamato subito Guardano lì A parte il fatto che Se tu lo guardi Questo qui È palesemente un italiano Tu lo guardi Guardi questa immagine E dici Questo è italiano Guardalo L'italiano dei tempi Un po' Latin lover Con la camicia Tutta aperta Questo Questo è palesemente Un italiano doc Palesemente Con la capigliatura tutta laccata Alla mafioso Esatto Esatto Questi Tutti i gabieri Tutti i gabieri Ti immagini se dice fuori che questo è russo Disinstallo il gioco Andiamo avanti Qui sta Sta segnando un rigore Per la Juve Dai Torniamo indietro Ci sono delle sorti Con assassini ignoti Che puoi provare Ripercorrendo ricordi E vedere se coincidono Con la gente Che è già riconosciuto È morto lui Perforato Sì Ah ok Questo qui L'aveva già preso Bestia Che infilzata Dice Ma siamo mati Ok E loro Erano qua Chi cazzo è lui William Wasim Lui mi sa di russo William Wasim Non posso vederlo meglio Perisce Fammi vedere dove perisce Eh però non mi dice Non mi dice Perché È particolare Come faccia Ma Somiglia ad altri Non è che William È molto da russo Ok Questo vecchio Il vecchio che spara Ah è John Napoli Grandissimo Fammi salire qua Non posso Non posso sbirciare Che sono loro Allora Lui è il nostro Bo Il nostro Bo Dio mio Tutti russi adesso Veramente Più che altro Questo qui dietro È stato sparato Da quello con la maglia a righe Ah Perdonatemi E quello con la maglia a righe Non sappiamo Chi cazzo è Mannaggia John Napoli Questo è Il coso del dottore Uh Vai Siamo belli incartati Sì Siamo belli incartati Più che altro Qui Mi interesse Mi interesse Mi interesse Sapere se La morte di questo qua Che è stato Sparato da uno Che però Non mi fanno vedere Perché di qua È bloccato Non posso tornare Ma di qua Ci siamo andati Giù di qua Non c'è niente Giù di qua Non c'è niente Giù di qua Ah Aspetta un attimo Perché Potrei utilizzare Questo passaggio Io Il lazzaretto è chiuso Sì Il lazzaretto è chiuso Ma per chi l'ha già giocato Mi sono perso qualcosa Per aprire il lazzaretto Permesso mi scusi Non so se ha senso Questa cosa Ci provo No Niente Peccato Mi sembrava Una genialata Di aver rotto il gioco Ho detto Ah ah No Assolutamente no Anche perché Non posso aprire le porte In questo contesto qui L'lazzaretto si apre Solo nell'ultimo capitolo Devo trovare tutti i morti Prima Ripercorrere i morti Uccisi da qualcuno Di ignoto Per vedere Se trovi gli uccisori Tra quelli individuati Eh ma devo andare a cazzo In realtà Sapete cosa possiamo fare Partire dal principio E seguire un po' Tutta la trama Da zero Partiamo proprio Dall'inizio inizio Allora Un carico malassicurato E qui Sul ponte di carico No E giù il ponte di carico E non so se L'ultimo capitolo Finisce il gioco E quello è il punto Vai Questo qui Moriva ammazzato Poi ce n'era uno Dentro un barile Che non si sa chi Non si sa chi Ok Lui Chi è E' il solito Marinaio Che non si sa Ma non è vero L'abbiamo già identificato Sappiamo tutto di lui Lui E' Patrick E' stato affogato Da una terribile bestia Non sappiamo Se è stato affogato Il signor Patrick Ma vediamo Quelli di Dell'oriente Qui sappiamo tutto Dei nobili Per te è meglio Andiamo avanti Ok E qui E' andata Non mi fa Tirare fuori L'orologio Per questo qua Se ne fregano Ma non c'è neanche Una via d'uscita Eccola qui Per me il pelato E' il nocchiere francese Con quella maglia a righe Non so neanche convinto Qui il cadavere E' stato spostato Dopo la morte Sulla punta della nave Che si chiama Prua No Questo è il lazzaretto Devo andare dietro No Perdonami Dove cazzo sono io Sì Questa è un'altra roba Qui dentro Ne chiudevano uno No non è vero Nel lazzaretto Lo chiudevano Questo qui E' quello che è morto Perché era dentro il barile Non si sa un cazzo Continuiamo Però la scena E' la stessa Non mi cambia nulla Non mi sono incastrato Oh no Oh no Ah E adesso Come ne esco Ah che culo Sì la scena E' la stessa Va bene Capitolo 2 Vai Eravamo io Fidel Paco Pegna Dobbiamo andare Su di un piano Dall'altra parte Della nave Allora Dove Dove è che si Oh Ah di qui E' il sepentaossido Per i 21 mesi Sono 21 Quindi niente Ciao Ciao Ressubate tutti Troppo Eccolo qua Il nostro bel cadavere Tutto Uno di tre Un freddo tagliente Un russo dice Un russo dice un altro russo Smettila di barare E il russo gli risponde Fatti gli affari tuoi Nel frattempo Un indiano parla in indie Bevi qualcosa Li dice Però questi qui sono già morti E sappiamo già tutto di loro Sono morti Per tisi No non è tisi Allora La cosa bella Di questa situazione Qui E' che Ci sono dei Numeri Che noi possiamo Escondere però Gabriel Mi faresti il favore Di segnarti I seguenti numeri Segnati 55 56 57 E 58 Poi anche 59 E 39 Ma questo qui c'è i calzettoni a righe E anche il 38 Ok Che in realtà Non so quanto possa essere utile Questa cosa qui No Scusami Cos'ho premuto? Cos'è questa cosa qua? Ah sì Mi ricordo Ok Grazie a Tian Raiden Per i suoi sette mesi Agli ordini di Capitano Gatto Rinnovo per domarli tutti E su Twitch E incatenarli Grazie mille Adesso vi dico Perché vi ho chiesto Questa cosa qui Allora Qui c'erano delle persone I russi Quelli che secondo noi Sono russi Non devono comparire Nell'elenco di numeri Che abbiamo segnato Grazie a tutti Grazie Nico Sì Mi sarebbe piaciuto Perdere per strada Anche Un altro russo Giusto per Alleggerire un po' Il cerchio Qui della vita Oh Mi butto No Niente Cazzo 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 Ah Marinaio Marinaio Sì Secondo me Questi qui Sono tutti marinai Perché sono vestiti Effettivamente da marinai L'unico che mi mette i dubbi È lui Perché c'ha le righine I numeri sono quelli dell'elenco Sì Stavo andando un po' per esclusione Non ho idea Smettere di barare Fatti gli affari tuoi Che poi non Non si sa chi dice a chi Di smettere di barare 37 Oh Sto qua con la donna ballerina Amiche l'abbiamo trovato Eh Allora facciamo così Segniamo 37 donna ballerina Ce l'abbiamo Nell'elenco Una donna ballerina Non è questo sicuramente 37 Timothy Il gabbiere della Scozia È lui È lui Il gabbiere Non lo so Non è affogato il russo Non si sa Non lo sappiamo Ci abbiamo riprovato L'abbiamo modificato Per te è il pelato questo Può darsi Non lo sappiamo Qui c'è anche un 42 Di scarpe È tutto rotto quello lì È perché effettivamente Questa qui È quella che ci aiuta Di più A identificare 49 41 Ah cazzo Ma qui c'è una tripletta Allora Gabriel ti prego Mi dispiace Se ti uso così Come segretario Ma Facciamo Facciamo un po' di chiarezza Mettiamo 39 Calzini a righe 39 Calzini a righe C'è qualcuno qui Che ha i calzini a righe Lui Però no Sono righe orizzontali Attenzione Righe Calzini Sarà lui Che ha la maglietta Che gli fa pandan Calzini a righe Lui Sembrerebbe Non lo so Certo che Dall'illustrazione Allora 39 Calzini a righe Il 59 Non si capisce Questi sono morti Questo qui Mi pareva di averlo Anche già identificato E tutto Perfetto Questo pure Perfetto Bravi Che siete morti Che bravi Cazzo Tu Tu anche Sì tu E lui L'acqua Perfetto In realtà L'unico indizio Che abbiamo È quello Poi abbiamo Il 58 Il 56 Il 55 Mi sta solo dicendo Tutta la gente che c'era Cerca in qualche scena In cui compare Chi? Ah dici Il Lo scalzinatore No andiamo avanti Andiamo avanti Cronologicamente Intanto Non voglio saltare Da una parte All'altra Perché rischiamo Solo di perderci Ok Qui è finito Poi Andiamo avanti Di una pagina Alla mia sinistra Quello che stiamo portando Su per le scale Eccolo qua Vedi Il chirurgo Non stava facendo Un cazzo In questo contesto Perché non gli serviva Perché lui Non serve L'infermiere Invece Che non Che Che è quello Che medica Infermierizza E lui Che cazzo è Babbo Natale Ok lo sappiamo Fammi leggere La trascrizione Dunque Stessa cosa degli altri Una malattia polmonare Non è tisi Il freddo Non aiuta E' infettiva Se così fosse Abbiamo già tutti E lui sa che avrà Gli ho dato Dell'audano Vedremo In realtà Noi sappiamo Che è morto Ma lui Chi cazzo è Morto Marinaio morto No no Perché non è possibile Che quello sia il chirurgo Questo qua Secondo me Ha senso Ci sta Poi Qui Questo era morto Ah tutto qui Il rosso capotavola Ha qualcosa sotto sedere Ma anche se è lui Il baro Non possiamo Identificarlo Il chirurgo è sempre medico Certo però Nella situazione In cui Sta Gli stanno tirando fuori Le Allora Vi spiego meglio Lui In questo momento C'è 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 una malattia Non c'è bisogno Di tagliare E di sferuzzare Quindi si fa i cazzi suoi E lui parla In altri contesti Lui lo abbiamo visto Chino Sulla gente Senza una gamba Quindi Secondo me è corretto Oh Sbaglio Vediamo Però secondo me È corretto così Questi sono qui Andiamo avanti Sì esatto Nel 1800 Tra l'altro I chirurghi erano Macellai Come dice Maudid Non è che fossero Tanto esperti Di medicina Dietro di me Scusami Di là Permesso Permesso Quanta morte Quanta morte Intorno a me Cazzo comunque Veramente Complimenti Per Un inverno Tagliate Andiamo avanti Una mucca Veramente Veramente Complimenti Per Come hanno strutturato Il gioco Allora Qui ci sono Gli assistenti Con il macellaio C'è anche una gallina Che è chiusa Grazie Grazie Mattia Per gli undici mesi Sta scimmia Poi Sì Abbiamo già provato Di invertirli Più volte Scusami Finisce così Ah perché Questo qui è il finale Di quello di prima Col cadavere Che veniva portato via Certo Ok Nella trascrizione Non c'era niente di interessante Colpisci da qui Un colpo secco Sì Stamplando la mucca Quando è finito Taglio la gola Qui Forza Prima che ti riempie Tutto bene Signore Questo qui dice Quell'altro Tutto bene Signore Credo sia lui È un allievo Dell'ufficiale Però Non credo Si possa capire Chi dei due sia Andiamo a Avanti La scimmia È la mente Dietro tutto È quella Che muove I fili Vabbè Andiamo avanti Prossimo capitolo L'omicidio Uh Ah Effettivamente Questa parte qui L'abbiamo svelata Abbastanza La svelta E quindi Non l'abbiamo Seguita Con la dovuta Attenzione Dobbiamo andare Di sopra E Trovare il corpo Del nostro Italiano Ma così tanto Di sopra Scusami Ah perché Il cadavere è stato Spostato dopo la morte Curioso Come George Eccolo qui Il cadavere È lui È lui No no Non è il primo Che è morto L'italiano C'è gente morta Molto prima Ma a caso Eccolo qui Eccolo qui Era coltellato Dal Da lui Che è l'ufficiale Quello che è Insomma Lui l'ha coltellato Questo è quello che è stato Mazzolato E poi accusato Dell'omicidio Questa è la favolosa Conchiglia Allora L'assassino Di questa situazione Voleva Rubare la conchiglia Questo l'ha sgamato Lo ha ammazzolato Poi ha coltellato Questo E ha dato la colpa A questo Che poi è stato Fucilato Il movente Era la conchiglia E qui Non c'è niente Da aggiungere Andiamo avanti Sì 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 È lunga Assolutamente sì Poi Questo qui Qui ci sono tutti Quindi potremmo trovare Questi stravaganti calzini No perché non si vedono i piedi La scimmia Macellaio Il cuoco Il cuoco lui no? Sì E lui è macellaio Sì Fammi vedere Che cosa dicono Oncullà La tua confessione Ti dichiaro Perché ha confessato? Perché avrebbe dovuto Su tua confessione Ti dichiaro colpevole No non ha fatto niente Di male Signora Lima È troppo tardi Silenzio Questo In quanto capitano da nave Con l'autorità conferita Ti condanno a morte Per fucilazione Forse l'hanno costretto Può darsi Cerchiamo anche Questa donna Tatuata Hanno tutti le maniche Tirate su No No il braccio era al destro? Sì era al destro E qua non si vede niente Perfetto 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 Sì il destro comunque Era di qua No questi sono gli asiatici Cazzo Il secondo ha un tatuaggio Quale? Questo qui? Scusa Dove lo vedi? All'interno del braccio? Non vedo niente Eh Eh non è detto Ula eh Non è detto Potrebbe essere un personaggio Che magari si è tirato su le maniche Per fare un certo lavoro Perché così ti rende più difficile La cosa No no Non c'è nessuno Perché probabilmente Quel tatuaggio Andrà visto In una certa situazione In un posto specifico Come lui Con il mano Il martello Che esce Dalla Dalla carpenteria Quindi direi di no Andiamo avanti Aspetta questi qui Appollaiati Con delle simie Nessuno che c'è Calzini stravaganti Porca puttana No beh lui Non può essere un ufficiale E gentiluomo Andiamo avanti Abbiamo poco tempo Tra l'altro E anche oggi Lo finiamo domani Dobbiamo andare Giù di un piano Aspetta un attimo Giù di un piano Dobbiamo andare Sì Perché Grazie Il cappello coraggioso Per i suoi sedici mesi E dove di preciso Scusami No Linfo No Qui? Ma mica ho capito Sai Ah È vero Perché si vedeva La gamba Cazzo È rimasta lì Per quanti anni Quella gamba Ha attaccata La gamba No Non credo Non è quella Di quello di prima Quello nell'illustrazione È il tatuaggio Aspetta Questo qui Era il 39 Era il 39 Era il 39 Era il cinese No Non serve Non spammate ragazzi Non dovete mai Spammare No il 39 Era il calzino a righe Lui era il Non me lo ricordo Non lo ricordo Non lo ricordo Il 37 Il 37 Allora il 39 Non era Il 55 Poi c'erano No Non c'era Il 37 Lo scozzese Sicuri? Io lo metto Però non si sa Chi gli ha sparato Lo sappiamo Lo sappiamo Non me lo accetta però Non me lo Non è O dite 57 Non ne ho idea Sinceramente Proviamo 57 Tanto per quello che ci costa provare Non ce l'ho accetta Lo stesso Non lo so Grazie a Matt Per i 9 mesi Come non ha sparato Edward Certo che si Buongiorno Grazie Ricky Vabbè Intanto Sbirciamo di qua Che cosa sta succedendo Qui c'è Secondo me Il gabbiere Comunque Per come è messo Qua stanno Recuperando la gente Non potrebbero essere Più diversi Questi due Uno dalla foto Questo gabbiere ignoto È stato ucciso Dall'alpione È stata la cinese A sparare No Non vedi Il braccio Dai ragazzi La signora Si sta tenendo così Cosa state dicendo Ma ragazzi Si vede palesemente Che è stato lui A sparare Come potete dire Che sia stata lei Che ha le braccia così Qui nel frattempo Che cazzo Il panico È successo poco dopo L'ammazzamento Amico mio Perdonami Chi sei? Il timoniere Non ha avuto Una sorte ignota È stato Arpionato Da Chi ti ha arpionato Mico mio Chi ti ha arpionato Non si sa 37 Allora È il 37 Sì Quindi questo qui È corretto Questo qui È assolutamente Corretto Quindi da qualche parte Abbiamo commesso Allora Questo è giusto Questo è il 100% giusto Più indietro È tutto a posto Ok Andiamo avanti A capitolo per capitolo A controllare tutte le cose Questo Giusto 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 Questo è giusto Vediamo dopo Dove possiamo Questo gabbiere ignoto È stato ucciso Non è più Una terribile bestia A questo punto Possiamo provare Con i cinesi No 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 Quindi vuol dire Che c'è Un altro errore Dopo ci arriviamo A quel capitolo lì Andiamo con calma Non è che hai sbagliato Ufficiale Oddio Non mi pareva Il secondo ufficiale Fammelo rivedere Mi pareva lui Sì anche perché Lui che ha fatto Tutto così Tutto il casino del mondo Secondo ufficiale Edward Nichols Confermato Va bene Andiamo avanti Così Capitolo Dopo capitolo Giriamo pagina E cerchiamo Di capire meglio Allora Andiamo Alla chiamata E questo qui Come faccio Però Com'è che ci eravamo Arrivati Alla morte Qui Aspetta che Devo uscire Intanto Sì sì È tempo di chiudere Volevo Arrivare Dall'altra parte Per salvare lì E basta Sì sì Lo so che sono le 11 Ragazzi Volevo Semplicemente andare lì Perché Ho paura di Dimenticarmene domani Cosa che sicuramente Mi succederà Quindi Chiamata parte 4 Per andare alla parte 1 Non posso vero Devo andare a ritroso Per forza Devo obbligatoriamente Fare questo circolo qui E allora Facciamo così Chiudiamo E intanto È fatta Noi ci vediamo alle 2 Sono contento Che non sia arrivato Il pacco da Ubisoft Adesso spero Che arrivi Adesso spero Che arrivi Ok Vi raido I termosifoni Vi ringrazio Per donazioni Super e sub Ci vediamo Alle 2 Non ho raidato Un cazzo Ci riprovo Ok Ci vediamo alle 2 Su Ghost Recon Con Karim E la Roby E Niente Grazie a tutti Come sempre Per donazioni Super e sub Vi ricordo Che il sito Dei sub Al video Vi ricordo Che il video È già caricato Sul sito Dei sub Potete vederlo È molto bello Ci vediamo Tra 3 ore Ciao Sul mio canale Potete tornare qui Per la live di oggi Tanto faremo la squad Vedrete tutti i canali Contemporaneamente Tranquilli A dopo Ciao 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 Ciao